Non sono qui per un sondaggio, non vendo nulla e non sono una testimone di Geova. Sono solo una madre e ho una cosa importante da chiederle. Buon lavoro, amore! Ti amo! Ciao! Su, su, ragazzi! Ti posso, ma io, io! È sempre stanco ultimamente. Papà! David, dove sei? Richiamami, è urgente. Molti trapianti danno risultati positivi, ma senza un fratello e una sorella con midollo compatibile le possibilità sono quasi nulla. La lascio promesso, giuro che la lascio. Con quante mi hai tradito! Mi dispiace! Sei così certo di non aver avuto altri figli? Non so proprio come dirlo, ma se c'è qualche possibilità che mio marito sia il padre di tuo figlio... Cosa? Se esiste un donatore da qualche parte, devo trovarlo. Ascolta, Clody, lo so che è una domanda strana, ma credo che tu abbia avuto una storia con mio marito. Avete figli insieme? Assoluto. Se sei andata a letto con mio marito, i nostri figli potrebbero essere compatibili. Vai! Sai, secondo me è stato anche con la cameriera. Glielo chiedo. Grazie. Grazie.